Benvenuti, questo è... So, good morning and welcome at the University of Milano Bicocca for this Virgilio Seminar in Science in Molecular Medicine I want to say just a few personal words of introduction, just by saying that I, you know, I'm saying hi is not only myself, but Paolo Corradini Massimo Locati, Silvia Brunelli our colleagues from Humanitas University as well Niccolò sorry for that I want to say that I am very proud about this program and I want to tell you without giving any promise for the future that we are trying to give and to do our best to think about the perspective of this program the perspective not only on how to continue in the future but even to try to find a way that the credits that you are gaining during the period of your medical school could bring not only the benefit of the experiences you are doing which I hope will be fine but definitely can provide something for your career we have some hypotheses as you know it's not easy to change all the complexity of the courses but I think it would be important to find a way that the credit that you gain in your basket could provide some potential benefit for your future career and this is something that we are working on and the reason why we do have at least an idea behind this promise is that on the 17 on November 18 sorry 18 November we are going to give organized by the University of Milano a full day dedicated to the how to integrate the program of the PhD and into the MD courses or as alternative how to provide benefit for students like you that has gained some credits during the medical school and are willing to find a way to have for the future not the benefit benefit is probably not the right words but to find a way that the time you have dedicated to these courses can provide some help for your future career either during the residency program or during the PhD I don't want to get into much detail because I'm not a person that is as a profile of just providing hope without solid ground but just to tell you that we are working on so our idea with all the board of the Virgilio is not just to say okay we are happy we won a project of the Fundazione Cariplo because definitely it would not be our perspective but to try to bring something in our medical courses of the three universities I hope that in the future we will be able to give some more detail about that okay so first of all I'm very pleased that you are all here or most of you are all here so thanks for accepting it's very important for us and I hope for you the idea of this day is basically to provide how this molecular medicine is completely and progressively changing the landscape of your future job and when I'm always saying to the students what is the impact of molecular medicine is of course because it's a completely change in the paradigm of approaching a disease and in terms of understanding the cellular and molecular way the mechanism thus providing better diagnostic approach better therapeutic strategy and definitely better outcome and we can already measure that what has been so far from the time of the 2000 with the sequence of the whole genome what has been the impact in the outcome of many many diseases but please remember that understanding the mechanism at the cellular level would not leave you from the crucial responsibility that in your future experience you would deal with the relationship with a person so because the temptation that you might have to go deeply into understanding and so thinking about the patient as a disease it would be a terrible mistake and actually this is going one of the big challenges because the complexity of each disease would definitely has already changed our way to work because each of us is becoming deeply and deeply specialist in the detail but what what who you have in front of you a child a mother a woman and a man is and should be always in your personal relationship a person and please don't be worried to get involved with your emotional component in this experience what I'm saying not be ashamed about that because sometimes you think that the white coat or the green coat depending where I'm working surgery and medicine might protect from that you need of course very clear and you need to be independent of the emotion in the sense that you need to be rational in what you are doing but please accept the challenge of the emotional engagement this is my personal experience I need to be rational but at the same time I accept the challenge to be provoked by the pain by the suffering by the disease of the patient that I have in front of me so please molecular medicine detail in more deep detail but at the same time the vision of a person that you have in front and that is the best challenge and the most difficult one so thanks for being with us now I'm very pleased to introduce Gian Battista Chombo who is I have to say Gian Battista is a very special person I'm sure that we realize soon Gian Battista is an MD specialist in vascular surgery is the head of the program for the scientific technological and biomedical research area of the foundation of the Cariplo foundation and is responsible for the Virgilio program okay he's a very dynamic person you know he's a person that is not worried at all about any problem or difficulties in his life and 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 he's a scientific advisor at a cardiovascular lab in Milano he's also a nutritional doctor in a private practice but his main field of interest is vascular medicine and I'm very pleased because all of us have been interacting with him for this program and is a really unique person you know the type of person that say can be very blunt with you and say Andrea this is not correct okay so it's not the person that say well we can consider the possibility no Giambattista is very direct and I'm pleased that he will enjoy his talk thank you Giambattista thank you okay so good morning to everyone I didn't know I have to expose in English so maybe I will try to do it I will do it in Italian because I have this little you know the fact that when I speak English then I shift to France because because I usually think and when I when I when I dream and when I I do it in French and so maybe it's better if I do if my 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 presentation in Italian so I will be straight I won't be non sbaglio ok allora sono contento di essere qui di essere stato invitato e sono contento di vedere che l'aula è piena soprattutto di ragazzi giovani che hanno partecipato partecipano al Virgilio program il Virgilio program è stato diciamo io sono entrato in fondazione cariplo forse scelto per questo nel senso che quando mi hanno detto vai a fare colloquio in fondazione cariplo prima non sapevo cosa fosse la fondazione cariplo per quanto abbia studiato medicina fosse diventato in chirurgo e tutto quanto e poi fondamentalmente quando sono arrivato lì alla domanda cosa pensi dei ricercatori io che sono un chirurgo di formazione allora ho sempre ho pensato ai ricercatori i ricercatori sono persone che stanno in laboratorio mille ore al giorno guadagnano pochissimo il frutto del loro lavoro lo vedono il frutto del loro lavoro lo vedono forse le generazioni future però poi mi è venuto in mente e forse questa è stata la frase che mi ha fatto passare davanti a quelli che erano i miei diciamo opponents che se una persona come alexander flaming che era un medico è riuscito studiando a trovare quello che noi adesso somministriamo a tutti quanti che è la augmentin allora a quel punto vuol dire che la ricerca e la medicina sono due cose che sono sulla stessa sullo stesso filone per cui questo sono un po' io come ha detto il prof chirurgo di formazione questo è stato uno dei momenti più belli della mia vita fondamentalmente e quindi chirurgo di formazione poi purtroppo ho avuto un incidente che mi ha costretto ad abbandonare la chirurgia e ho avuto la fortuna di entrare in fondazione Carpio non sono led comunque della ricerca scientifica perché se sentisse il mio capo mi farebbe fuori subito ma sono semplicemente uno sono quello che ha gestito ha avuto la fortuna di gestire questo tipo di progetti che portano poi alla formazione dell'MD PhD io stesso volevo fare un PhD però il mio capo mi ha detto finché fai la clinica è meglio che il PhD non lo fai quando ho fatto l'incidente mi ha detto adesso il PhD me lo fai fare e lui mi ha detto adesso puoi farlo a quel punto io volevo mandarlo a stendere ma grazie a Dio la fondazione mi ha dato la possibilità di vedere come riuscire a impostare un PhD program e questo è stato per me molto formativo ho contattato tante persone negli Stati Uniti Inghilterra che si occupavano proprio di questo e tramite i loro consigli e tramite anche quello che riuscivo a vedere sono cresciuto diciamo non ho raggiunto il mio PhD però comunque sono cresciuto comprendendo anche cosa vuol dire fare il ricercatore e fare il ricercatore vuol dire essere anche fare l'MD PhD secondo me vuol dire anche diventare un filosofo perché sapete che il PH sta per filosofi e quindi la medicina non è solo una una pratica ma è anche proprio una filosofia e lo dimostra tutta quanta la storia quindi partendo dalla storia del mecenatismo ci sono varie parole che mi sono venute in mente quindi il primo mecenate mecenate eponimo era praticamente un diciamo il consigliere di Augusto quindi figlio adottivo ancora di Giulio Cesare e quindi lui che cosa ha fatto lui ha creato questo circolo culturale attorno ad Augusto in modo che così le le varie espressioni culturali e artistiche potessero trovare sotto il tetto dell'imperatore e senza dover lavorare come facevano tutti quanti gli altri potevano trovare la possibilità di esprimere l'arte di esprimere la cultura e questo nel nei tempi antichi quindi fino diciamo al disfacimento dell'impero romano d'oriente era anche segno di prestigio per cui tanti grandi signori avevano proprio presso le loro corti degli artisti dei dei cultori di varie materie che potessero aumentare poi il loro prestigio poi rimanendo nell'arte occidentale comunque il mecenatismo è stato diventato nel rinascimento e soprattutto per quanto riguarda anche la chiesa bisogna dirlo un motivo di magnificenza per cui ad esempio i medici sono stati dei grandi dei grandi mecenati è vero che poi loro lo facevano per aumentare il loro prestigio Lorenzo il magnifico se ve lo vedete era bruttissimo infatti mi aspettavo ieri di trovarlo magnifico ma effettivamente era magnifico perché semplicemente quello che lui diciamo ha fatto per per la città dove ho vissuto sono cose che ci sono ancora rimaste sono effettivamente magnifiche nella loro nella loro espressione la chiesa non c'è sa va a san dire nel senso che tantissime opere che sono state poi prodotte da grandi artisti sono poi tra virgolette sponsorizzate dalle famiglie che facevano parte della chiesa sappiamo tutti che i figli cadetti erano quelli che entravano nella chiesa e tanti facevano così tanta carriera da arrivare a diventare papi e poi commissionavano a dei grandi artisti Donatello Michelangelo le loro opere mettendo poi anche dei diciamo segni distintivi della loro famiglia all'interno di queste opere e poi ci sono delle imprese delle iniziative imprenditoriali io qui ho segnalato Peggy Guggenheim è vero che c'è il Guggenheim Museum all'interno tanta arte tante diciamo opere d'arte che poi vengono sono state diciamo raggruppate e sono a disposizione di tutte tutti grazie anche alla diciamo buona volontà e alla possibilità di evitare di pagare le tasse dei magnati o comunque delle persone molto ambienti negli Stati Uniti e oltre a mecenatismo però c'è anche un altro tipo di diciamo termine che è quello della filantropia quello che ci avvicina un pochettino di più al diciamo al modo di pensare di vivere anche dalla fondazione Cariplo e sempre seguendo la storia i romani pensavano alla filantropia come humanitas quindi aiuto per gli altri della cristianità ovviamente la Caritas per quanto riguarda l'illuminismo Rousseau è stato il primo e poi seguito dagli altri a parlare di fratellanza quindi legalité fraternité quindi queste sono cose che ovviamente a livello illuminista dove si pensava che tutti gli uomini fossero uguali e che tutti fossero tra virgolette sulla stessa barca allora a quel punto c'è stato anche il fatto di dover riconoscere nell'altro uomo un'altra persona che vive i nostri stessi problemi poi a seconda del cedo sociale a seconda del diciamo del modo di interpretare anche i problemi però la fratellanza è quella che comunque riuniva tutti quanti gli esseri umani Schopenhauer poi andando avanti nel posto dell'immunismo ha diciamo espresso questo termine di filantropia come compassione mentre invece Nietzsche che sapete era un po' diciamo fuori dagli schemi interpretava la filantropia come espressione di potere nel senso che il filantropo esprimeva il proprio potere nei confronti di chi riceveva la sua la sua diciamo tra virgolette carità sempre però esprimeva il proprio potere dando piuttosto che donando e quindi questo è una cosa che poi ci porta anche a quella che è la filantropia e quelli che sono filantropia il mecenatismo dal punto di vista diciamo imprenditoriale per cui ci sono tante opere che vengono fatte mascherate come filantropi come filantropiche come frutto di mecenatismo che però effettivamente portano l'autore a diciamo guadagnarci sia dal punto di vista dell'immagine che anche tante volte dal punto di vista dell'economico vero e proprio ecco qui abbiamo saltato però la parte ritorniamo alla parte della medicina in primo luogo e in secondo luogo dal punto di vista storico abbiamo saltato la parte che va dalla fine dell'impero romano d'oriente all'inizio del rinascimento questi 700 anni sono stati coperti da quello che era il fiorire quello che è stato il fiorire della cultura nel mondo arabo io prima di fare un incidente stavo leggendo proprio questo libro che parlava si chiama la casa della saggezza e parlava copriva il tempo di questi 700 anni dove qui c'era la caccia alle streghe c'era torcamada c'era il medioevo quindi tutto quel periodo buio in cui la cultura non è stata portata avanti mentre invece nella parte tra virgolette araba nel mondo quindi sempre nel nostro mondo il nostro pianeta però da un'altra parte la cultura che era partita con Ippocrate giurerete avrete giurato avete vedrete che comunque il Ippocrate ovviamente poi al di là del giuramento ci ha portato grandi avanzamenti Galeno stesso poi sono stati diciamo ripresi e sono stati anche tante volte migliorati da questi personaggi come vedete scritti in corsivo quindi Avicenna che è stato uno dei più grandi medici già si diceva che a 16 anni avesse una schiera di pazienti infinita tanti di questi di questi personaggi hanno portato avanti non solo la medicina quindi questo per tornare al discorso del prima della filosofia avevano scritto dei testi di filosofia testi di religione dei testi hanno portato avanti la scienza dell'ottica hanno misurato alcuni la circonferenza terrestre quando si pensava che fosse piatta la terra hanno misurato la circonferenza terrestre semplicemente guardando le stelle con uno scarto del 2% quando io ho visto una cosa del genere ho detto non è possibile come si fa e quindi ecco e in più hanno lasciato hanno studiato i testi antichi di 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 ippocrate e di galeno e li hanno portati fino a poi al rinascimento quando poi dopo dopo il rinascimento sono arrivati i padri finalmente della medicina moderna e contemporanea e anche della scienza e della fisica moderna e contemporanea per cui si può pensare che quello che gli è caduto la mele in testa mentre era sotto un albero poi è diventato Newton piuttosto che i vari Galileo piuttosto che Leonardo sono tutte persone che ecco a questo punto si può dire anche io avevo un primario che mi diceva il modo migliore per studiare per imparare è scrivere e il modo migliore per scrivere è ricercare ovviamente per cui e entrare nella filosofia proprio della ricerca della ricerca in modo da poi arrivare alla cura e ovviamente avendo di fronte una persona che ha un problema qualsiasi esso sia quando sarete non so pediatri chirurghi medici interni endocrinologi genetisti qualsiasi cosa ovviamente tenete conto che avete io ho scelto la medicina perché mio papà che vedete qui aveva dei libri e io studiando leggendo semplicemente il sistema cardiovascolare ho detto aspetta guarda cosa abbiamo dentro e allora lì ho deciso però per proprio per la materia poi quando ho visto che potevo stringere la mano alla gente e dire le persone mi guardavano e mi ringraziavano andavano via contente guarite allora ho detto ok questo è il mio lavoro però ho continuato a ricercare ho continuato a inserirmi in questo diciamo filone di ricerca e di scrittura per cui quando mi hanno finalmente proposto in fondazione Carplo la possibilità di esprimere questo bando allora io l'ho fatto dandomi questo tipo di obiettivi no quindi adesso qui arriviamo ai giorni nostri per cui educare alla medicina traslazionale che vuol dire iniziare la ricerca come come svegliarsi al mattino e trovare che nelle placche come ha fatto Fleming c'era della muffa e questi questi funghi poi sono diventati quello che noi prendiamo anche io prenderò anche tra poco perché la mia gola ne ha bisogno e questo è uno piuttosto che quindi passare dal laboratorio al letto del malato come si dice in gergono piuttosto che ecco condividere scusate il refuso condividere i metodi e la valutazione dell'efficacia del del metodo scientifico quindi mettere a punto sempre delle nuove delle nuove metodiche andare avanti modificando senza fossilizzarsi su quello che è lo status quo ma andando avanti e condividere e valutare l'efficacia di quello che si fa fornire formare una solida mentorship questo è fondamentale cioè ognuno che è qui è figlio di qualcuno per cui ovviamente poi questo è il mentore e è importante che il mentore sia una persona che insegni ma anche che stimoli il fatto che questo programma poi si chiami virgilio che è una persona non serve neanche che vi dica chi è chi fosse e si è portato in giro dante inferno paradiso inferno purgatorio paradiso insegnandogli facendogli vedere spiegandogli e fino a quando poi non sono arrivati tra virgolette a Dio quindi io spero che voi arriviate a Dio nella vostra vita terrenale più in là possibile però comunque che comprendiate invece quello che effettivamente è il il significato di quello che state studiando il significato e soprattutto la bellezza nel senso tanti mi dicevano ah fai il medico farai una vita così 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 io invece mi ricordo tutti i Natali in cui litigavo con mia madre perché le diciamo conversazioni iniziavano con mangia a casa io no mamma perché e finivano con ah allora non mangia a casa e io sì mamma sto arrivando e ogni volta che arrivavo il giorno dopo che era Natale andavo in ospedale dove vai? vado in ospedale perché la gente sta male e quello secondo me era il modo migliore per passare il Natale perché arrivavo fischiettando c'erano tutti i miei malati purtroppo malati e però io ero lì e riuscivo a dare loro me stesso no? e cercavo di dare il miglior me stesso possibile oltre al fatto perché era Natale ma poi comunque perché quello è il momento in cui si può dire Dante è arrivato quasi al cospetto di Dio per cui diventa una cosa che tante volte è egoistica cioè io tante volte dico che sono egoista perché trovo soddisfazione nell'aiutare una persona e lo faccio tante volte per me stesso e questo mi aiuta mi aiuta e mi ha aiutato tanto mi aiutava prima e mi aiuta anche adesso perché nonostante tutto proseguo nella nella carriera è importante poi fornire e questo per voi delle prospettive di carriera reali per cui studiando la diciamo costituzione proprio del 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 programma ho visto che chi ha un MD PhD ha delle prospettive accademiche ospedaliere private soprattutto all'estero molto più solide di quelle che abbiamo noi qua ok per cui il consiglio è sia di seguire il Virgilio programma ovviamente ma poi di perseguire anche la strada o perlomeno avere una mentalità che vi permetta di ricercare ricercare continuare a rinnovarsi continuare a capire il perché delle cose perché è facile aprire un libro leggere andare a fare un esame prendere un 30 un 30 lode fine ma poi dietro c'è tutta una serie di di questioni c'è una schiera di persone incredibile con delle qualità incredibili che poi sono i ricercatori che sono poi quelle persone che purtroppo per loro vivono cioè vivono ecco io dico senza essere riconosciute appieno nel loro per quello che poi è il loro valore e poi ovviamente è importante che programmi come il Virgilio che io sto guardando ed è mi viene da dire outstanding cioè è fenomenale è veramente fenomenale soprattutto anche rispetto agli altri quello di incoraggiare la ricerca la vocazione per la ricerca di di voi che sarete futuri specialisti e che siete specializzanti nonostante ci siano dei turni in ospedale massacranti nonostante siano diciamocelo gli specializzanti e gli studenti che fanno andare avanti i reparti nonostante ci siano poi per formarvi però anche dei primari che sono pronti a crocifiggervi in mezzo al reparto dicendo tu dovevi fare questo dovevi fare quello perché ecco vedi non sei capace no è vero beh ok via giochi io adesso è un retaggio del passato allora io non sono così tanto passato però il mio primario evidentemente per la specialità perché lui era fatto così era in grado di questa era però dimostrazione di interesse nel senso che quando quando qualcuno ti segue quando qualcuno ti sgrida quando qualcuno ti è un modo per dirti uno devi crescere due come diceva prima ti devi disciolare come si dice a Milano e e tre guarda che io ci tengo io ci tengo non solo perché ovviamente poi dopo andiamo incontro a dei problemi che dipendono dalla salute del paziente che viene inclinata ma soprattutto perché poi quando io non ci sarò più e qui torniamo al discorso dell'insegnante mentore genitore perché se leggete poi quando leggerete il il giuramento di Ippocrate si dice che i mentori e i maestri dovranno essere trattati come genitori e i colleghi dovranno essere trattati come fratelli quindi quando i vostri primari ormai non lo fanno più però quando lo faranno e se mai lo faranno vi sgrideranno lo faranno come un genitore come i vostri genitori vi sgridavano quando eravate piccoli perché perché quando loro non ci saranno quando loro non ci sono sono girati dall'altra parte sono occupati sono a un congresso sono sarete voi al loro posto a quel punto voi dovrete aver imparato e loro lo fanno per quello poi poi vi sentirete le persone tante volte io mi sono sentito di andare a nascondermi però poi diciamo che ho imparato e quindi quando dovevo avere uno scrupolo in più ne avevo due è una cosa che nel Virgilio Program secondo me riuscirete a comprendere oltre ad avere poi una formazione non solo medica ma anche dal punto di vista dei ricercatori e poi credo di aver finito e poi è finito Gian Battista grazie credo che non potevamo cominciare al meglio questa giornata perché parole testimonianze e storie sono poi quelle che quando prima vi dicevo bisogna lasciarsi provocare e quindi non ci poteva essere modo migliore Gian Battista che farlo con la tua testimonianza professionale ma anche e soprattutto di storia umana e delle parole che hai scelto per farlo quindi grazie moltissimo grazie 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 grazie